Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Seconda partita di questo lunedì che va a chiudere la seconda giornata dei mondiali, la partita che ho appena finito di seguire, Corea del Sud contro Ghana. Un incontro al quale onestamente spero anche voi abbiate avuto la fortuna di assistere perché è stata veramente molto divertente. Voto la gara a 7 e mezzo, la partita finita 3 a 2 per il Ghana, 5 gol, tante occasioni, tanto bel gioco in una partita che ha lasciato poco spazio al tatticismo esasperato e finalmente ha lasciato libero di giocare due squadre che sicuramente hanno del potenziale e che sicuramente sanno giocare bene a calcio. Ha vinto il Ghana, un risultato rocambolesco perché la formazione di Otto Addo che ha lasciato dietro tutte quelle follie anche di scelta di formazione, la difesa 5, tanti errori che aveva fatto nella gara poi persa contro il Portogallo e partita bene. Ha saputo contenere gli assalti della solita Corea, veloce, spettacolare, grintosa, messa in campo da Paolo Bento e ha trovato i due gol del vantaggio nel corso del primo tempo. Una rete dell'1-0 realizzata su un mischione dopo calcio di punizione da Salisu, centrale del Southampton e la rete del 2-0 con un colpo di testa del giovane Kudus. Voi sapete chi mi segue nel canale, io non sono un tifoso del giovane a tutti i costi perché il giovane deve avere talento anche, non deve per forza solo essere giovane per essere impiegato. Questo Kudus, devo dire, veramente è un talento. È un giocatore molto bravo, molto valido, sa fare tantissime cose, mi era già piaciuto contro il Portogallo, qui ha giocato molto bene anche in fase offensiva. Gol del 2-0, Ghana in vantaggio alla pausa, Corea con il solito limite, quello di una mancanza di concretezza. Bella squadra, gioca bene, gioca veloce, moltissima intensità, giocatori che non si tirano mai indietro, però ha poca capacità di tirare in porta. Nel secondo tempo è cambiato tutto perché la Corea è riuscita finalmente a migliorare la propria efficacia. Grazie a un tandem pazzesco, il terzino Kim Hyun-soo, terzino sinistro, offensivo in maniera splendida, e la punta a ciò che finalmente ha cominciato a inquadrare la porta e di testa, sfruttando anche un po' di indecisioni del pacchetto centrale della difesa del Ghana, soprattutto Salisu che ha fatto il gol ma ha anche contribuito al primo gol di ciò, e poi il secondo gol ancora con un grande stacco di testa. E Corea che a quel punto si era messa lì in parità, sul due pari, il minuto era il 61, due gol in quattro minuti, sembrava l'inerzia della gara essere passata nelle mani della Corea. Invece il Ghana è stato bravo, Otto Addo ha aspettato a fare le sue sostituzioni suicide, e ancora Kudus è riuscito dal centro dell'Ara con una bella botta a trovare il gol, che ha dato il vantaggio al Ghana. Da quel momento però complici le folli scelte di Otto Addo, perché qui sembra che ci si diverta ad autospararsi addosso, l'autolesionismo è fondamentale in questo mondiale, a quanto pare ha rischierato la difesa A5, che è un male del calcio e nel caso del Ghana è un male per questa squadra, perché la formazione africana gioca molto peggio con la difesa A5 rispetto a quella difesa A4. La Corea ha preso in mano completamente il pallino del gioco, non mi è dispiaciuto il giovane Lee Kang, che gioca nel Mallorca a 21 anni, però un po' lezioso nel finale, un paio di conclusioni buttate via, quando avrebbe potuto passare poi la palla a compagni meglio piazzati. La Corea ha attaccato, mi è sembrato sempre di vedere quello, ve l'ho detto anche l'altra volta, quell'assedio meraviglioso della Corea del 1994, quando recuperò la partita con la Spagna, però stavolta il gol alla fine non è arrivato, e c'è anche una porcheria arbitrale della quale mi piace parlare, ovvero in un calcio farsa come questo dei mondiali, con i recuperi fiume dati per ragioni improvvisate e prolungati poi a piacimento, il primo tempo è stato 5 minuti, il recupero del secondo tempo 10 minuti, quindi ci sono giocati un sereno supplementare, ma con la Corea in attacco, col Gana che non riusciva più a superare la propria metà campo, la Corea ha guadagnato i minuti di recupero e erano 10, il portiere Zigi ha perso un'eternità prima di ogni rinvio, giocatori a terra è successo di tutto, recupero prolungato, la Corea tira, ottiene un calcio d'angolo, siamo a 10.54 sul cronometro, Taylor riesce nel capolavoro di non far battere il calcio d'angolo, Paolo Bento si infervora, si arrabbia, corre dall'arbitro a insultare e a far presente le proprie ragioni, viene incredibilmente anche espulso, cosa che ci sta perché il comportamento di Paolo Bento ovviamente non era stato assolutamente urbano, però ragazzi come è possibile, come si può, come si può in una partita, non è detto che poi ovviamente la Corea su questo calcio d'angolo avrebbe segnato, però è ingiusto che gli sia stato tolto il diritto di batterlo, l'ha guadagnato, non si sa quanto il recupero in più fosse stato concesso, 54 secondi, diciamo che era un minuto, il calcio d'angolo è stato conquistato prima dell'undicesimo minuto, dello scadere del minuto in più, andava fatto battere, Taylor bocciatissimo, brutta decisione e da un punto di vista arbitrale e regolamentare, uno scempio assoluto questo mondiale. Veniamo alla pagina di questa gara, ha detto che in classifica Portogallo 3 punti, Ghana 3 punti, Uruguay 1, Corea 1, stasera una Portogallo-Uruguay da non perdere, anche perché la commenta Dani, e quindi sappiamo già da che parte tirerà il vento e avremo la telecrona cattifosa come si usava su Sky una volta. Vediamo alle pagelle, Kim Seung 6, Kim Moon 6, Kim Minjai 6,5 è uscito nel finale con un leggero infortunio, Kim Jung 6, Kim Jinsu 7, terzino veramente di spinta strepitoso, Wang 6,5, Jung Vo 6, Gwon 6, Jung Vo 6, Jung Min Son 6,5, credo che sta maschera gli dia veramente un fastidio fotonico, 7,5 a Cho, dei subentrati Nassang 6,5 e Lee Kian Kang 6,5 che non mi sono dispiaciuti, 6,5 a Paolo Bento, per quanto riguarda il Ghana, 6,5 a Portiere Ziggy, 6,5 a Lamptey, bravo a offendere un po' meno a difendere, 7 a Martey, 6,5 a Salisu, 6 a Mensah, 6,5 a Partey, 6 a Abdul Samad, 7,5 all'ottimo Kudus, come dicevamo davvero un gran talento, 7 invece ai grandi veterani come piacciono a me, Andre Aiu 7, Jordan Aiu 6,5, William 6, ma uno scattista assurdo, ha fatto un'azione di velocità attorno all'ottantesimo minuto incredibile, 6,5 a Domenzo, punto in meno per le sostituzioni assurde. 22 falli, 4 cartellini, di Tedio l'ho già parlato, il voto per lui è 5, è stato ingiusto, ed è la cosa più brutta che si possa dire a un arbitro. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale, vi aspetto più tardi, Brasile e Svizzera. Ciao a tutti, un bacio da Lox.